Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Buon Natale a tutti! Oggi finalmente è Natale, vi auguro di passarlo nel migliore dei modi e oggi scopriremo insieme questa meravigliosa creazione di resina gigante ne ho fatta solo una, come potete notare e l'ho fatta con la Crystal Clear della Flowcart troverete giù in info box come sempre il sito della Flowcart la mettiamo un attimo qui e adesso andiamo a vedere questa creazione sono molto felice di aver fatto questa creazione perché non vedevo l'ora di usare questa resina e non ho usato solo la resina ma ho usato anche aspettate un attimo che riesco a prenderla ho usato anche la Metal Power Powder Shell Iridium che sarebbe questo meraviglioso pigmento color perla praticamente, color madre perla scusate praticamente era dentro delle bustine io l'ho tolto dalle bustine e l'ho messa in questi barattolini così mi viene meglio usarlo, utilizzarlo ci sono altri color... aspetta, vi faccio vedere le bustine le bustine sono così praticamente non avevo più barattolini e l'ho lasciato nella busta questo è il color rame, bellissimo guardate che meraviglia e niente, adesso andiamo a vedere la mia creazione gigante che è questa la usciamo fuori dallo stampino dai metti a fuoco aspettate un attimo che non vuole mettere a fuoco ecco ok dai esci dallo stampo ti è apprezzionata allo stampo la mia creazione ecco qua togliamo lo stampo e aspettate un attimo che vedo se è messa dritta così la vedete ok, ho sistemato la creazione nel verso giusto e adesso andiamo a vederla insieme per la prima volta non vedo l'ora di vederla oleee oh mio dio che carina guardate com'è lucida guardate com'è lucida, guardate è bellissimo praticamente ho messo dietro i brillantini sempre della flockart e ho messo anche queste paillettes che sembrano dei fiocchi di neve sono bellissime poi ho messo questo sticker che è veramente bellissimo e dietro ho fatto il doming con, ve l'ho detto il pigmento shell iridium è bellissimo solo che questo stampo sia un pochettino graffiato e c'è una riga qui ma non fa niente è bellissimo come vedete non ci sono bolle non c'è niente è veramente sono veramente soddisfatta di questa resina qui ho avuto un problema con lo sticker non c'entra niente la resina è veramente veramente bellissimo non c'è niente da dire è stupendo come vedete questa resina è lucidissima stupenda si era sporcato bellissimo sono veramente veramente molto soddisfatta spero che vi piaccia anche a voi e presto faremo farò un video in cui vi faccio vedere come utilizzo questa resina perché è meravigliosa e niente vi auguro veramente buon natale spero che lo passate bene soprattutto in famiglia spero che vi divertiate ma soprattutto state attenti a non bere troppo e niente vi auguro buon natale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao